Buongiorno, sono Monica Poletti, Assessora alla Cultura del Comune di Bagnacavallo. Ci troviamo al Museo Civico delle Capoccile. Le parole chiave di questo progetto sono appartenenza e valore. Appartenenza perché parliamo di un progetto comunitario in cui il nostro pubblico si riconosce l'arte incisoria. Valore perché è stato un progetto curato, di grande valore, con attenzione e profondità di ricerca. Naturalmente restituito anche attraverso un catalogo molto importante. Perciò è stato assolutamente visitato, è stata una mostra di grande interesse. Rispetto al lavoro corale sappiamo che qui c'è stato un contributo importante anche da parte del nostro sponsor attraverso lo strumento dell'Art Bonus, la ditta Mixer. Ma non solo, il perché probabilmente questo progetto ha avuto questo risultato è perché c'è stato anche un supporto da parte della collettività. Il museo è al centro della storia della città. Pertanto la restituzione di questa Madonna, le patrocine o la città ha creato grandissimo interesse da parte del pubblico. I nostri progetti futuri riguardano sempre il valore di appartenenza e di qualità artistica. Quindi, sempre grazie allo strumento Art Bonus, stiamo portando un importante lavoro di Sabella Cavallese, Saporetti, ad arricchire la nostra collezione di museo. Grazie a tutti.